buongiorno amici ben ritrovati su russian watches review l'unico canale youtube dedicato agli orologi russi nel video di oggi vi voglio parlare di un orologio che raketa ha realizzato negli anni 80 con un preciso scopo cioè quello di permettere ai non vedenti e agli ipo vedenti di poter in qualche modo leggere l'ora al polso ecco quindi che parliamo del modello conosciuto anche come raketa braille se ricordate un anno fa vi ho presentato anche una sveglia braille quella era fatta da slava non vi lascio il link perché ho intenzione di rifare quel video da capo per farlo ecco un po meglio con delle immagini migliori ma se andate a scavare nella cronologia dovreste trovarlo veniamo però ai nostri raketa braille nelle immagini ne vediamo due perché posseggo due versioni di questo orologio entrambe sono interessanti per due motivi il primo è il più evidente e il quadrante bianco in un caso è nero nell'altro il secondo motivo ve lo dico alla fine del video anzi mettete in pausa studiate un attimo le immagini e provate a lasciare un commento sul quale può essere la cosa interessante che distingue questi due orologi a parte il colore del quadrante così a fine video saprete se avete indovinato comunque non è una cosa molto difficile da individuare vediamo adesso qualche parametro tecnico come facciamo sempre la cassa è in ottone cromato e misura 36 per 33 millimetri circa il fondello è a scatto e fin qui non c'è nulla di particolare questo però è un braille watch e quindi come si fa a leggere l'ora senza guardarlo beh si tocca il quadrante con le dita la corona infatti oltre a essere usata per la carica e per l'impostazione dell'ora ha anche un pulsante che se premuto fa aprire il vetro anteriore con uno scatto infatti si può vedere una cerniera anche sulla cassa a quel punto toccando il quadrante con i polpastrelli si può individuare la posizione delle lancette in relazione agli indici ultima cosa prima di analizzare il dial vi dico che il movimento è il 2601 a carica manuale di racchetta andiamo quindi a vedere bene il quadrante che è realizzato con tutti gli accorgimenti necessari al reale utilizzo di questo orologio il dial infatti è realizzato con un materiale plastico tutt'altro che delicato gli indici sono ben spessi e solidi a ore 3 6 9 e 12 c'è un doppio pallino che serve come riferimento per la lettura dell'orario naturalmente non c'è luminosità perché sarebbe del tutto superflua le lancette a matita sono in nero sul dial bianco mentre invece le troviamo cromate sul dial nero sono abbastanza distanziate dal dial dal quadrante e soprattutto solide e fissate in maniera molto salda la lancetta dei secondi è del tutto assente tutte queste caratteristiche servono per fare in modo che l'orologio resista al contatto con le dita questo quadrante è studiato apposta per essere manipolato e tutto l'orologio deve tener conto della funzione fondamentale per cui è stato creato comunque facendo una buona pressione è possibile anche spostare le lancette direttamente toccandole quindi impostando l'ora in una maniera che immagino possa essere un po più utile e agevole per un non vedente in queste immagini ingrandite possiamo anche vedere l'effetto di usura sul quadrante i segni di utilizzo che questo orologio porta con sé testimoniano la grande storia di racchetta e l'importanza di conoscere e collezionare questi modelli i due orologi che stiamo vedendo sono coevi in tutto e per tutto potete usarli anche come riferimento se state cercando anche voi un racchetta braille a tal proposito devo dire che essendo questo un orologio molto specifico è difficile trovarne di riassemblati o di rimaneggiati in questi casi infatti non abbiamo un grande livello di compatibilità fra casse quadranti eccetera certo qualche assemblaggio strano si può sempre fare ma a quel punto si tratterebbe di qualcosa di molto evidente nonostante ciò comunque siate sempre prudenti e prima di acquistarne uno magari venite a confrontarlo con questo video anzi quando ne trovate uno che vi interessa fate molta attenzione al meccanismo di apertura la corona deve avere il bottone una corona diversa si riconoscerebbe a prima vista ma il meccanismo stesso deve funzionare bene quindi io almeno quello vi consiglio di controllarlo preventivamente oppure se si tratta di un acquisto fatto a distanza magari online chiedete al venditore espressamente se il meccanismo funziona bene se lo sportello si apre nella maniera corretta ora prima di dirvi quella particolarità a cui accennavo inizio video vorrei fare un passaggio sull'utilità civile dell'orologio che stiamo vedendo gli appassionati di vintage spesso cercano orologi con complicazioni o caratteristiche che collochino un modello in uno specifico utilizzo per fare qualche esempio abbiamo tachimetri contatori di scatti telefonici orologi che permettono il calcolo delle pulsazioni insomma qualche decennio fa ci si ingegnava per avere strumenti meccanici che aiutassero anche nel lavoro o nella vita di tutti i giorni oltre che anche per esempio nell'ambiente militare per dirne un'altra questo orologio quindi si colloca in un ambiente civile era uno strumento ideato per permetterle ai non vedenti di leggere l'ora oggi abbiamo tantissimi strumenti diversi anche orologi supportati da sistemi audio e per fortuna per un non vedente conoscere l'ora esatta non è più un grande problema anche in passato c'erano diversi sistemi credo di poter dire che questo nella russia degli anni 80 era un sistema tutto sommato più accessibile non bisognava avere chissà quale tecnologia ma con questo racchettino si arrivava dritti al risultato allo stesso tempo devo dire che non è stata solo racchetta a produrre orologi per non vedenti per citarne una anche vostro generalizzati ne realizza ancora oggi sono acquistabili tranquillamente online ora però veniamo alla curiosità che stavate aspettando per tutto il video si sono susseguite le immagini dei miei due raketa braille avrete certamente notato che in un caso c'è la dicitura di fabbricazione made in ue cesar quindi in inglese e nell'altro caso c'è scritto sdelano pippo ccn russia scusatemi se non lo pronuncio giusto comunque i due marchi sono proposti in maniera diversa per quello nero made in ue cesar possiamo dire che è stato prodotto in unione sovietica negli anni 80 e che la dicitura di fabbricazione in inglese denota la sua teorica destinazione verso un mercato estero direi europeo quindi era fatto per essere esportato quello bianco invece ha la dicitura più moderna in caratteri cirillici quindi non troviamo scritto cccp ma russia attenzione sicuramente anni 90 perché appunto non parla di unione sovietica ma parla di russia ciò ci fa capire per quanto tempo è stato prodotto questo modello magari non ci si aspetta una grande produzione di orologi così specifici ma quanto pare lo hanno fabbricato per una ventina d'anni ad occhio e croce quindi è una cosa interessante da sapere bene amici miei questa presentazione è finita fatemi sapere sempre la vostra opinione nei commenti avete anche voi magari un racchetta braille in collezione oppure lo state cercando insomma ditemi quello che volete io sono molto soddisfatto di avere questi due nella mia personale collezione allora vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine vi lascio il consueto appuntamento fino al prossimo video ciao ciao